Questo è il bellissimo nuovo osservatorio che abbiamo qui presso l'impianto di San Zeno. Potete vedere all'interno sono presenti i due telescopi che saranno in funzione dell'osservatorio proprio per fare osservazione, per fare ricerca scientifica. Uno è un telescopio che sarà dedicato, quello più grande, al Sistema Solare, alla Luna, ai pianeti, quindi diciamo tutto quello che concerne proprio lo studio del nostro Sistema Solare. E l'altro è un altro bellissimo strumento, un telescopio solare professionale e molto potente che ci permetterà invece di fare tutto uno studio sulla nostra stella, quindi sul nostro Sole. Dalla Luna a Saturno fino alla nostra stella più grande, il Sole. Qui al nuovo osservatorio astronomico di Arezzo, situato nella resede del termovalorizzatore di San Zeno, sarà possibile osservare le stelle. Pochi giorni fa, la prima serata di apertura al pubblico da parte del gruppo Astrofili di Arezzo. Ecco, tutti gli eventi ovviamente saranno organizzati dal vostro gruppo, cioè non ci sarà insomma un utilizzo autonomo da parte dei cittadini o degli studenti? No, ecco, sarà sempre sotto forma di prenotazione, perché comunque è uno strumento professionale dove faremo eventualmente con maggiore auspicio ricerca. Però ecco, ci saranno le aperture al pubblico anche le domeniche mattine qualche volta per portare tutti i cittadini a osservare il Sole e tutti i mercoledì dell'anno sarà aperto a tutti su prenotazione. Chiunque tutti i mercoledì potrà venire a assaporare gli anelli di Saturno, vedere la Luna in tutta tranquillità senza nessun costo assolutamente, questo sì. Presidente, perché la scelta di ospitare un osservatorio astronomico qui nel resede, diciamo così, nell'impianto di San Diego? Grazie, è una domanda molto intelligente questa. Per un semplice motivo, perché la direzione che ha preso questa centrale di recupero che in questo momento ricordo è in costruzione con tutte le difficoltà del caso anche legate ai ritardi con cui arrivano i pezzi dovuti al caro, che tutto è diventato tutto caro, complicato, questo sta diventando sempre di più un polo scientifico e tecnologico. Quindi bisogna sforzarsi, avere il coraggio di immaginarlo, come sarà, quando sarà completato, quando ci sarà appunto anche tutta la nuova linea di termovalorizzazione che ci toglierà tanto imbarazzo e anche tanto trasporto. Quindi la scelta di coinvolgere i gruppi di persone appassionate di materie scientifiche diventa in questo caso strategico perché questo è un polo di divulgazione scientifica a questo punto. È chiaro che è una forma di zero spreco, cioè un oggetto che serve per smaltire, recuperare i rifiuti, eccetera, eccetera, deve anche ridare indietro qualcosa. E per questo stiamo appunto lavorando alla zero spreco card che tra breve appunto vedrete, qualcuno vedrà già nelle sue case.